Di Catania, Angelo Agosta, molto noto, un fisico, che è la nostra comunità, che in occasione della conferenza internazionale che abbiamo organizzato qui a Catania, con la vita, è natura e vita, un tutt'uno con la mente, questo è... Majorana non era portato a far gruppo, a stabilire solidarietà e a stabilirvisi. ...la portava, un senso del genio precoce, quale appunto era Majorana, la vita come... ...ho letto di... ...è stata assunta un voto unanime dalla Commissione Toponomastica, che come probabilmente qualcuno di voi sa, è composta da rappresentanti... ...l'Italia unita con responsabilità di... ...si associasse... ...e fisicamente prenderà il nome di piazza. ...ricorda un suo figlio illustre, il nostro paese ricorda un suo figlio illustre. ...uno studio recente e un calcolo che... Grazie, grazie di cuore. ...strano, e lo era veramente, stranio, estraneo, e soprattutto alla... ...faffugliava che era roba da bambini e che non ne valeva la pena discorrerne. ...problema, e allora si frugava nelle tasche, ne estraeva una matita e un pacchetto di sigarette. ...le teorie non gli venivano per improvviso. Elabora la teoria del nucleo fatto di protoni e neutroni e non solo rifiuta di pubblicarla, come un amico sconosciuto. ...uno che...